Buongiorno 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 e quindi situazione che al momento è ancora palla corta ma a lei stavolta arriva meglio e recupera il buono bravo speed bello bravo a lei che gran passante volo pala corta che non è male no ma dai questo è un capolavoro perché la pala corta di Vallejo era eccezionale rivediamo meglio di questi come la vuoi giocare ma guardate che si è inventato Basavaredi una conto sbozzata veramente fenomenale forse Vallejo è la colpa di non aver su ancora una sbozzata e questa neanche entra insomma è un Vallejo in confusione ma soprattutto bravissimo Nescez Basavaredi che ha dominato il set 6-2 eh che bravo ecco la rete bravo scena anche per la facilità con cui arrivate è un gran punto è tenuto a dire molto bravo Basavaredi a correre pochi rischi per l'ennissima volta un lob difensivo di Vallejo che poi arriva l'Ace e poi però si riscatta ancora e alla fine sbaglia lo smash non c'è Pasavaredi grande il massimo però se l'è cavata sbaglia ancora Pasavaretti Dallejo supera un momento delicatissimo annulla palla a break bella che bella ci ha già provato prima risposta vincente 30 pari stacca con gravure no è arrivato di gran carriera Vallejo ma non è riuscissimo a edizione del trofeo Buonfiglio attacca molto bene Vallejo risposta aggressiva ci ritrova la palla Pasavaretti attacca e arriva il passante la palla arriva a Lejo che chiama a raccolta il pubblico ovviamente ha buoni motivi per farlo perché ha trovato 3 o 4 punti straordinari nel corso del secondo set nei momenti più critici guardate che passante contropiedi arriva la serve e poi la volée con cui Vallejo porta con merito a casa il secondo set dunque bello risposta non particolarmente serve bene e chiude bene con il diritto Vallejo e comunque risente di questi continui capovolgimenti che non hanno ancora fatto sì che ci sia ora come ora un vero problema colè a campo praticamente vuoto da parte di Basamarelli bravissimo e sulla prima arriva Leis ci prova ma sbaglia Vallejo con rovescio ma perché comunque è stato molto incisivo ci arriva ci arriva e come se ci arriva ancora sì la prima c'è e accelera col dritto altro che per Basamarelli che supera adesso per Basamarelli avere un vantaggio rassicurante vediamo adesso come se la gioca il paraguayano non male però non male come secondo perché viaggiava poco però che angolo che ha trovato e poi bravissimo sul rovescio successivo e poi un nastro che dà una gran che seconda ma giocava un gran punto occhio perché altra riga trovata da Basamarelli stavolta e qui spinge la grande servizio e dritto 40-15 stavolta e basta il primo a Mischi Basamarelli è il nuovo campione del trofeo Bonfiglio riporta il titolo del singolare maschile del terreno milanese negli Stati Uniti dopo ben 32 anni sconfigge con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 il numero 1 del tabellone il paraguaiano Daniel Vallejo e può festeggiare non accadeva dal 1990 matta che ottenere il terreno stai la stai